L'economia circolare, la capacità di produrre e consumare prodotti e servizi riducendo il consumo di risorse e riducendo la produzione di rifiuti è il futuro della politica ambientale. Una politica ambientale che non si occupa solo degli inquinamenti una volta che sono stati realizzati o i rifiuti che sono stati prodotti ma che soprattutto mira a prevenire l'inquinamento e la produzione di rifiuti. Per realizzare questo obiettivo è essenziale il ruolo dei cittadini e delle imprese delle imprese in particolare nel modo in cui producono perché possono fare delle scelte che riducono il consumo di risorse e riducono la produzione di rifiuti. Il convegno che gli Amici della Terra organizzano a Scandicci si inserisce nella campagna sull'economia circolare Zero Sprechi che mira soprattutto a far conoscere buone pratiche di imprese che si stanno già impegnando in questa direzione. Nel caso del convegno di Scandicci verrà presentato proprio un esempio nel settore della pelletteria che mostra come è possibile produrre oggetti e manufatti riducendo il consumo di risorse e la produzione di rifiuti.